Tra scuole della provincia di Sondrio e ATS della Montagna firmato un nuovo accordo per la promozione della salute. A questa rete aderiscono nove istituti comprensivi e un istituto superiore. Il comprensivo paesi aerobici di Sondrio e la scuola capofila. Gli altri partners del patto sono i comprensivi paesi retici di Sondrio, di Novate Mezzola, di Ardenno, di Grosio-Grossotto-Sondalo, di Sondrio-Centro, di Tirano, il Bertacchi di Chiavenna, il paritario Pio XII di Sondrio e l'istituto superiore Besta Fossati del capoluogo. Le pratiche volte a promuovere nei bambini la salute possono essere molteplici. La salubrità del cibo proposto a mensa con un occhio alla filiera corta, la messa al bando di snack ipercalorici e la diffusione di snack salutari e di frutta, la merenda sana, il piedibus e tutte le altre forme di attività che incentivano il movimento e contrastano la sedentarietà col conseguente rischio di obesità e ancora la qualificazione degli ambienti e la promozione di un migliore clima organizzativo e relazionale che favorisce il benessere delle persone. Questa rete, dichiara il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Fabio Molinari, è una struttura fondamentale per il mondo della scuola. Quest'anno siamo riusciti a rinnovarla con l'aggiunta di nuovi istituti, fondamentale il rapporto della scuola capofila con l'Agenzia di tutela della salute. Ora, aggiunge il provveditore, è necessario che l'attività si estenda il più possibile fra docenti, studenti e famiglie. Obiettivo, arrivare a costruire modelli di corretti stili di vita con progetti mirati, come il contrasto al bullismo e al gioco d'azzardo patologico. La rete delle scuole che promuovono salute è nata nel 2012, spiega Maria Pia Mollura, dirigente dell'Istituto Paesi Aerobici. In Valtellina e Valchiavenna, su 32 scuole, solo 10 sono quelle aderenti. Occorre insomma sensibilizzare quelle che ancora non vi fanno parte, in modo da poter coinvolgere poi con più efficacia le famiglie. Si tratta, conclude, di azioni legate alla salute a 360 gradi, che non riguardano solo le grandi piaghe sociali, ma mirano anche a favorire il principio dello star bene a scuola.